Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Poche settimane fa avevo fatto un video dove vi parlavo di un sito cinese che ho testato e insomma vi dicevo se mi era piaciuto e cosa ne pensavo e molti di voi mi avete detto che vi piaceva come idea perciò oggi sono qua a parlarvi di un nuovo sito che si chiama Aliexpress rispetto a quello dell'altra volta, questo è molto famoso, quindi penso l'abbiate già sentito negli ultimi giorni c'era una promozione su questo sito su vestiti eleganti, vestiti da sera per occasioni speciali ne ho presi tre che adesso vi voglio mostrare e vi voglio anche raccontare cose riguardanti il prezzo, la spedizione, il servizio e insomma va bene, siamo con il video Allora questi vestiti si trovano sul titolo Aliexpress però la marca è un'altra, è Ever Pretty che ha anche un suo sito e che ha un sacco di vestiti carinissimi appunto per occasioni speciali Prima di tutto parliamo della spedizione Devo dire che non c'è avuto poco, credo ci siano avuto circa tre settimane se vi serve qualche vestito per qualche occasione speciale per una comunione, una cresima, non lo so, qualcosa, qualche festa importante pensateci prima perché questi vestiti costano poco però comunque la spedizione ci mette un po' ad arrivare quindi pensateci per tempo Inoltre prima di mostrarveli vi dico subito che ho un codice sconto per voi quindi insomma se ne avete bisogno potete sfrirne il codice in questione è EPYTP che vi lascerò nello schermo ma anche nell'info box e che vale per un 30% di sconto sui vostri acquisti passiamo però alla parte vestiti che vi mostrerò anche indossati così fate un'idea insomma migliore il primo vestito che ho preso è l'unico lungo che ho preso lungo fino ai piedi che sinceramente visto da qui, visto così non è bello cioè è un vestito normale insomma però visto addosso è davvero carinissimo sinceramente non me l'aspettavo allora il colore se l'ho preso blu scuro perché d'estate quella plantatura insomma risalta fa risaltare la plantatura ci sono comunque tantissimi colori e ora è aperto perciò insomma è per questo che è largo però lo vedrete nel appunto indossato alla vita si stringe e poi scende giù molto più largo appunto il materiale davvero molto buono ha anche l'etichetta tra l'altro Ever Pretty molte volte questi vestiti cinesi arrivano senza etichette oppure con etichette di tutti altri siti mentre questo appunto ha la sua etichetta il link ovviamente a tutti questi vestiti ve lo lascerò giù nell'info box perciò insomma controllatela se controllate nel sito ne trovate anche tantissimi altri di vestiti poi questo mi piace particolarmente questo che vi sto per mostrare è un vestito un po' da ballerina diciamo lo chiamerei così scende fino, arriva fino al ginocchio quasi e mi piace tantissimo la gonna che praticamente è formata da pezzi in tulle e in stoffa come nel corpetto insomma che crea questo effetto appunto un po' a tutto di una ballerina di una ballerina e mi piace tantissimo appunto come è fatto anche questo è più molto giustetto in vita e più largo sotto poi ve lo vedrete indossato quindi insomma è inutile che sto a spiegarvelo tutto anche l'ultimo che ho preso mi piace tantissimo anche questo c'era in diversi colori quello da ballerina no c'è solamente in quel colore lì mentre questo c'era in tantissimi colori questo invece è corto ho preso uno lungo non ho meglio uno corto giusto per fare insomma per provarli tutti anche di questo è un materiale buonissimo non ho niente da ridere questo mi piace tantissimo è molto carino per l'estate anche per uscire così la sera questo non è da grandi occasioni cioè alla fine è un semplice vestito carinissimo dietro ha le spalline in trina praticamente come vedete qua poi per il testo è scollato quindi insomma questi sono i vestiti che ho preso sul sito come vi ho detto allora la spedizione ci vuole ci mette abbastanza i prezzi tutti molto bassi poi potete andare a controllare tanto vi lascio tutti i link in descrizione il coupon ve l'ho dato come servizio clienti sono molto molto gentili quindi insomma se avete problemi potete scrivere e vi risponderanno sicuramente qualità per essere un sito cinese devo dire al di sopra della media io spero che questi video così vi piacciono dove vi faccio scoprire questi siti sconosciuti mai sentiti prima e insomma io li testo faccio da cavia e poi insomma voi potete andare a provare anche voi allora vi devo dire che il video di venerdì non uscirà venerdì ma uscirà giovedì e sarà un video un po' speciale perché vi voglio aggiornare un po' sulla mia vita diciamo su quello che sta accadendo in questo momento in questo periodo quello che è i miei perietti futuri quindi insomma siete sicuri di guardare quel video e niente vi mando un bacione e vedo l'appuntamento giovedì prossimo con un nuovissimo video e vedo l'appuntamento